In posizione Sono per sé Nittili i negrini del pilatore Come adesso si flutteranno per questo sprint Per la prima segnata Prosti poce ci avevamo l'interno Giulia Presti Ed è Solginovo Presti Quindi ad accedere alla finalissima fermi per Maxi, prima falsa partenza della numero uno, in parte regolare questa seconda semifinale, Lampitelli in prima posizione, seguito da Biondi con un leggero immagine di vantaggio sulla terza e la quarta, quindi ancora il duetto Lampitelli-Biondi in prima e seconda posizione quando siamo al rettilineo opposto all'arrivo di metà gara esatta, cerca di farsi sotto la propria della linea sparta a casa di così come quella del Bellusco, ma è una solo tra Lampitelli e Biondi, ultimi centone di periodo che vanno a sprintare per la posizione di asilo ed è Lampitelli-Biondi quindi ad accedere alla finalissima di questo giro sprint.